Salve, eccoci a questa rubrica una domanda una risposta, rubrica di approfondimento ma anche di curiosità per chi opera nel settore della pubblica amministrazione e vuole entrare nella pubblica amministrazione. Quindi la domanda è quanto guadagna e visto dal cittadino quanto costa un dipendente pubblico? Quindi andiamo a vedere alcuni aspetti tecnici e alcuni aspetti di curiosità. Iniziamo. Intanto un primo elemento di partenza per essere chiari su queste tematiche. Quanti sono i dipendenti pubblici nella pubblica amministrazione italiana? Sono tanti, sono pochi, spesso si sente una polemica sulla quantità dei dipendenti pubblici. Questo è il numero dei dipendenti pubblici sul numero dei dipendenti dell'intera economia, delle principali economie mondiali. Come vedete l'Italia è nella media, non è né a livelli elevati come la Francia, il paese che ha la più alta percentuale di dipendenti pubblici, né come per esempio il Regno Unito, anche se sono diminuiti notevolmente negli ultimi anni, o la Grecia, l'Irlanda, il Belgio, ma anche gli Stati Uniti, diciamo siamo in percentuale al di sotto di questi paesi, quindi in linea con le grandi economie mondiali. Quindi non ci sono troppi, fra virgolette, dipendenti pubblici e fra l'altro, come vedete dalle statistiche, dal 2010 al 2017, in netta diminuzione anche in virtù del blocco delle assunzioni. Ora probabilmente ci sarà una crescita nel 2022-2023 grazie alla riapertura delle assunzioni. Inoltre teniamo conto dell'andamento delle retribuzioni reali della pubblica amministrazione. Cosa si intende retribuzioni reali? Quindi al netto degli aspetti legati alle retribuzioni lorde e le retribuzioni formali, come vedete, rendendo 100 la quota del 2002, dell'inizio dopo la riforma delle riforme Bassanini, notiamo una crescita, una crescita anche significativa, delle retribuzioni reali della pubblica amministrazione fino al 2010, fino al governo Monti, che poi ha drasticamente ridotto, è intervenuto proprio in quella operazione di complessiva riforma dell'economia che, vedete, ha fatto abbattere le retribuzioni reali delle pubblica amministrazione con una previsione di ulteriore abbattimento. Come vedete la linea tratteggiata sono le previsioni, nel 2022 abbiamo i rinnovi contrattuali, quindi una leggera crescita delle retribuzioni, ma sempre al di sotto della media e vedremo anche sul tema inflazione, al di sotto delle tematiche legate all'inflazione. Ecco il tema dell'inflazione, queste sono le retribuzioni contrattuali della pubblica amministrazione e del settore privato in confronto all'inflazione. L'inflazione è quella riga rossa, come notate per un lungo periodo dal 2012 al 2020 l'inflazione è stata neutra, zero, addirittura in decrescita per alcuni aspetti. Adesso abbiamo un picco, notate la curva come sta crescendo in maniera significativa nel 2021, 2022 ancora di più. Cosa è accaduto? È accaduto che nel frattempo le retribuzioni, ad esempio dei servizi privati, sono cresciuti tendenzialmente in linea con l'inflazione. Solo nel 2021 notate che la retribuzione reale anche dei servizi privati andrà sotto il livello di inflazione. L'industria ugualmente è cresciuta parallelamente alla crescita dell'inflazione. Mentre i comparti di contrattazione collettiva vanno a scaglioni. Questi scaglioni sono determinati proprio dai rinnovi contrattuali, con la soppressione della scala mobile e l'andamento delle retribuzioni a questi balsi. Se vedete nel 2002-2004, quando i contratti collettivi venivano rinnovati ogni quadriennio, ogni biegno a seconda della parte giuridica e della parte economica, vedete abbiamo scatti biennali, poi abbiamo un andamento piatto dal 2010, come detto, riforme Monti fino al 2018, con il nuovo contratto 2018 abbiamo un leggero scatto e poi avremo nel 2022 un scatto legato alla nuova contrattazione che è avvenuta e sta avvenendo in questi mesi. comunque al di sotto del livello di inflazione. Ovviamente, come detto, il problema non è soltanto lo stipendio o il tema non è soltanto lo stipendio, ma anche il costo del lavoro pubblico, perché gli stipendi dei dipendenti pubblici, io sono uno di questi, è a carico dei cittadini, quindi viene pagato con le tasse dei cittadini. Allora la Corte dei Conti periodicamente dovrebbe fare una relazione annuale che, come vedete, in realtà poi diventa biennale, triennale, eccetera, però l'ultima è del 2020, la relazione sul costo del lavoro pubblico che evidenzia quali sono le criticità, le problematiche del costo del lavoro pubblico. Per chi è interessato, consiglio di darne una lettura alla relazione. Intanto, quando parliamo di dipendenti pubblici, parliamo di tantissimi soggetti, soggetti variegati. I dipendenti pubblici, che attualmente sono circa 3 milioni, secondo l'ultima ripartizione, questa è del 2018, ma tendenzialmente le cifre sono le stesse, sono dati da un terzo, circa il 35%, della scuola o della formazione superiore. Abbiamo il 16% della sicurezza e della difesa, le varie forze di sicurezza e difesa. Il 20% del servizio sanitario nazionale, come vedete, questa fetta rappresenta i tre quarti della popolazione dei dipendenti pubblici. Abbiamo il 13% delle regioni e delle autonomie locali e poi a scalare gli altri enti e le altre tipologie di enti. Quindi è ovvio che l'incidenza anche degli stipendi, degli aumenti stipendiali, varia in funzione della quantità. Quindi quando vedete le statistiche di dipendenti degli enti locali, aumenti di stipendio, sì, ma incidono per il 13% le autonomie locali comprensive anche delle regioni. Mentre la parte preponderante è la scuola e la sanità, che sono i due settori che rappresentano più della metà del personale della pubblica amministrazione. Per analizzare le retribuzioni dei dipendenti pubblici, l'ARAN, che è l'Agenzia della rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, stila un report semestrale, l'ultimo disponibile è il secondo semestre 2021, pubblicato nel 2022, dal quale si possono ricavare alcune informazioni. Intanto il fatto che lo stipendio, quello che chiamiamo lo stipendio del dipendente pubblico, non è uguale in tutti i comparti, in tutte le aree, in tutti i settori, ma varia, intanto è formato da sei componenti fondamentalmente. La retribuzione di base, quella tabellare, quella fissa, quella che prendono tutti i dipendenti allo stesso modo, le indennità fisse, quindi quelle riconosciute comunque per quel settore, per quel comparto, al dipendente, le indennità variabili, le responsabilità, lo straordinario e la premialità, il sistema della cosiddetta performance. Vedete che ad esempio nelle agenzie fiscali la ripartizione è quella di un 80% circa di retribuzione e indennità fisse e una componente del 14% di premialità. Intanto sì, mi viene richiesto in diretta, lo confermo, troverete le slide a disposizione, come al solito, nei commenti al video di YouTube appena terminato e al link che vi ho riportato. Vediamo che su per giù gli enti pubblici economici non economici hanno lo stesso regime, un po' meno le autonomie locali, dove la produttività, la premialità è inferiore, dove la retribuzione di base è una componente ancora significativa. Stessa cosa vale per la sanità, a maggior ragione per la scuola. Vedete, la scuola è quasi standard, standard è quasi livellata, stessa cosa all'università, molto anche ai ministeri, gli enti di ricerca addirittura quasi totalmente fisso e non variabile. Quindi anche questa è una componente importante, cioè l'incidenza del sistema della performance non è stata così forte come avrebbe voluto la riforma e sicuramente in alcuni settori l'incidenza è decisamente minore. Ma la domanda che ci facciamo tutti è come si fa a sapere qual è lo stipendio, a calcolarlo, visto che quando leggo i contratti collettivi io trovo sempre la cifra lorda, quindi la cifra che va decurtata da una serie di componenti. Ecco qui alcune indicazioni di massima e poi vedremo, non è possibile, serve un commercialista, serve un consulente del lavoro, ma indicativamente per calcolare lo stipendio netto mensile partendo dall'ordo si deve conoscere ovviamente lo stipendio lordo, dedurne le imposte, i contributi previdenziali, le agevolazioni fiscali da aggiungere come gli assegni familiari, togliere le detrazioni fiscali, aggiungere gli eventuali bonus, i 100 euro, gli 80 euro, tutti quei bonus che periodicamente vengono inseriti. Quindi la formula fondamentalmente è dal reddito imponibile, cioè dalla ritribuzione lorda, tolti i contributi IMSS a carico del dipendente, dobbiamo calcolare l'imposta lorda, l'IRPEF, l'addizionale regionale, l'addizionale comunale, togliere le detrazioni, calcolare l'imposta netta, cioè l'imposta lorda meno le detrazioni e troveremo la retribuzione detta che è data dal reddito imponibile meno l'imposta netta più gli eventuali bonus. Questo per farvi capire che non è possibile dare una cifra puntuale, dire la categoria C2 prende, dipende dal soggetto, dipende da dove si trova, dalla regione dove si trova, dal comune in cui si trova, anche se le addizionali non hanno una componente così significativa. Allora, come si fa a calcolare a cazzotto, cioè senza dover fare tutti questi calcoli? Io mi sono dato questa regola. Tendenzialmente, tendenzialmente, quando avete il lordo, i due terzi di quella cifra sono il netto. Se voi trovate scritto 15.000 euro di lordo, sono 10.000 euro di netto. Quindi, dividete per 3, moltiplicate per 2, non andate lontani da quella che è la cifra reale. Ok? Questo prendetelo, ovviamente, a cazzotto. Se vi interessa personalmente in relazione alla vostra busta paga, sentite un consulente del lavoro. Ecco perché ci serve questo aspetto dei due terzi, perché quando vado a vedere le tabelle pubblicate su siti internet, su giornali, sugli allegati al contratto collettivo, io non riesco a capire qual è poi alla fine del mese lo stipendio che prendo, poi c'è la tredicesima, la quattordicesima. Allora, vedete, questa è la retribuzione nei ministeri, la classificazione è prima, seconda, terza fascia, E, F1, F2, F3, i vari livelli. Vedete, un livello più basso dei ministeri, 1, F1, prende 1,518 euro lordi mensili senza tutte le altre variabili, ok, premialità e quant'altro, che abbiamo visto però non ha un'incidenza così, diciamo il 10%, quindi possiamo dire, secondo il calcolo spannometrico che vi ho detto, va a prendere 1,000 euro netti, ci aggiungo il 10%, fa 1,100, ci aggiungo un po' di 1,150, 1,200 euro, ok, questo è il netto di un 1, F1, ovviamente faccio la stessa cosa sull'ispettore generale, calcolando 3,000 euro a rotondo, 3,000 euro, due terzi, fanno 2,000 euro netti, circa 2,000 euro netti, questo è i ministeri non dirigenti, ok, perché i dirigenti hanno un altro sistema e poi vedremo alcune curiosità sullo stipendio dei dirigenti. Stessa cosa lo posso fare sugli enti pubblici non economici che come vedete su per giù hanno lo stesso range da 1,519 a 2,885, questo dopo il rinnovo contrattuale. Stessa cosa la posso fare su enti locali, a sinistra la tabella e sanità pubblica, a destra la tabella, quindi negli enti locali passiamo dai 1,456 di stipendio mensile del A1 ai 2,605 del D7. Anche qui due terzi, ci aggiungo qualcosa di premialità che è leggermente superiore per gli enti locali, abbiamo visto rispetto ai ministeri e vado a individuarmi la mia cifra. se penso a un C1 facciamo 1,800 euro vengono 1,200 netti più il 20% 1,450 1,500 euro netti. Ok? Questo è indicativamente la cifra lo stipendio. Poi chi di voi è un C1 e vuole indicare il suo netto mensile lo faccia pure nei commenti e come detto stessa cosa abbiamo nella sanità. Una curiosità e andiamo verso la conclusione. Gazzetta Amministrativa che è una rivista giuridica online ha realizzato questo interessante rating rating è la classificazione delle spese per stipendio estraordinario dei tempi indeterminato e determinato di regioni e comuni dandogli un bollino una classificazione un po' come fanno le agenzie infatto ringrazio Alba che ci conferma indicativamente la cifra dicevo che danno un bollino come vedete come fanno le agenzie Standard & Poor's Fitch eccetera A A A B B B fino ad arrivare al C diciamo che è la valutazione pessima ecco come vedete in base a questo poi viene dato un rating finale dove A è il migliore e C è il peggiore delle varie regioni quindi vedete la Liguria la Emilia Romagna la Toscana sono diciamo nella fascia alta di attenzione non di quantità della spesa ma di qualità della spesa per dipendente stessa cosa è stata fatta per le singole amministrazioni quindi per i comuni capoluogo di provincia vedete Latina è prima in questo rating Messina Reggio Calabria Palermo Taranto Livorno per arrivare poi Siracusa Barletta Brindisi Catanzaro e infine gli ultimi Nuoro Salerno Caserta Avellino ovviamente è una diciamo su parametri soggettivi però diciamo è anche un interessante sistema di controllo della spesa pubblica ok è un meccanismo anche per controllare questa particolare spesa pubblica che è quella per i dipendenti una curiosità le differenze fra lo stipendio netto qui vi ho riportato il netto annuale di un dipendente medio ok quindi la fascia intermedia personale non dirigente a sinistra dirigente a destra normalmente i dirigenti prendono due terzi in più ok quindi si prende il netto del dipendente non dirigente medio si divide per tre si moltiplica per due ci si aggiunge e si ottiene così sempre a cazzotto spannometrico la cifra che guadagna un dirigente dello stesso settore quindi vedete il servizio sanitario nazionale 25 mila euro annui diventano 47 mila euro enti pubblici non economici da 25 a 48 mila euro prendiamo le regioni autonomie locali da 23 mila a 46 mila euro quindi circa 4 mila euro al mese anche lì sono medie sono medie per i dipendenti sono medie per i dirigenti però può essere una curiosità per capire appunto anche questa componente e da cittadino e da magari concorsista che vuole puntare a diventare o uno della fascia sinistra o uno della fascia destra di stipendio io vi ringrazio proseguiremo con queste iniziative di una domanda una risposta che non sono necessariamente approfondimenti giuridici ma anche curiosità spero che abbiate gradito intanto vi avevo lanciato un sondaggio lo vado a leggere secondo te un dipendente pubblico guadagna il 56% di voi ha detto poco il 38% ha detto il giusto il 3% pochissimo l'1% troppo vi ringrazio vi saluto e ci vediamo alla prossima occasione di aggiornamento e formazione arrivederci grazie